ciao a tutti luna rossa femmini amiche amici valorosi abbonati benvenuti e ben trovati per un nuovo video accendiamo la nostra candelina ok questa bellissima candelina rossa fuori e bianca dentro le dovrebbero vietare dal commercio le candele che sono praticamente come dire pitturate fuori perché sono farlocche poi fondamentalmente e va bene e va bene guardate controllo se si vede anche nell'inquadratura perfetto si vede a posto oggi utilizzeremo le mie amatissime sibille io vabbè amo tutte le carte della verità però le sibille che sono le sibille italiane diciamo che ho un debole perché lo vedete dai video cioè sono proprio chiacchierò almeno a me dicono un sacco di cose allora andiamo a vedere che cosa vi vogliono raccontare oggi prima di tutto chi è questa persona ovviamente mentre mischio le carte mischio anche queste altre vi ricordo che il video vale per tutti sia che voi siate etero che arcobaleno vale dal momento in cui voi lo aprite non dal momento in cui lo posto quindi anche se vedete qui il tavolo in versione natalizia ovviamente vale sempre almeno finché il video sul canale allora vi ricordo già che ci siamo ovviamente per chi non è iscritto e si trova qui per la prima volta benvenuti si va iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere la notifica dei prossimi video e infine non ultimo like a chi ne dispiace lasciatemi un like così supportate il canale vedete siamo un po diciamo creators al di là che uno abbia un canale di cucina piuttosto che un gamer piuttosto che di cartomanzia diciamo ecco siamo un po schiavi diciamo della piattaforma perché perché per rimanere come dire ecco su youtube e non finire diciamo all'ultimo posto dell'algoritmo di youtube ci sono sempre dei cambiamenti e dobbiamo adeguarci in questo momento youtube spinge molto sul sugli shorts che io ho poco tempo per fare si shorts eppure mi sa che mi toccherà farli altrimenti come dire quel canale come dire con un crash non viene bene algoritmizzato e quindi ci guarda se tu non fai quello che diciamo noi che giustamente a youtube giustamente gli conviene tenerci sotto torchio dice io ti penalizzo è così quindi da parte vostra se vi va a chi non dispiace datevi una mano va bene direi che possiamo iniziare chi è questa persona chi è questa persona taglia del mazzo o addirittura ok beh qua abbiamo la carta del messaggero questa è una carta molto interessante perché diciamo ecco qua ci sono situazioni con l'ufficialità no sembra che sia una persona che voglia un attimino ecco parlarvi però voglia parlarvi anche o perlomeno si è resa conto di non potervi parlare più in maniera come dire ecco leggera come dire ecco che so con ci siamo incontrati per caso per interposta persona buon natale col messaggino no 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 non lo può fare più ha capito questa persona che o ha bisogno veramente di qualcuno che faccia da intermediario quindi quella ufficialità che si vede qui c'è l'intermediario sarebbe questo messaggero che porta il messaggio un messaggio ufficiale non si capisce diciamo che se il messaggio lo vuole o diciamo che se lo vuole dare però certamente una carta che parla di comunicazioni quindi ci sta un po questo è anche l'altro questa persona chi è ha sicuramente diciamo ecco doti comunicative come dire co spiccate che non significa che sia una persona sincera però certamente una persona che quando parla questo qua evidentemente e vale anche se voi siete un uomo e questo è una donna e le sa raccontare le cose le sa raccontare le fa passare come per come dire ecco notizie non dico del giornale perché oggi è passato il messaggio che quello che leggiamo nei giornali tante volte non è come stanno effettivamente le cose ma è una lettura quella quasi quasi di cui ti vogliono convincere ecco è esattamente così questa persona al di là se la cosa è vero e falsa la fa passare come notizia vera ok quindi c'è un po ne vogliamo parlare questo problemino purtroppo siamo anche un po masmedizzati in questo senso no a vivere le cose un po così se uno lo scrive per dire sui social allora è così se uno è più riservato e se lo tiene per sé allora la tua verità non esiste praticamente allora il fatto è questo probabile che questa persona abbia detto fatto qualcosa non dico che si è pentita però il problema fondamentale di questa persona con te o per lo meno per qualificare questa persona che cos'è per te chi è questa persona è che non ti ha dato rispetto a quella che la sua comunicazione diciamo è con segnale di conferma dei suoi sentimenti come se ti avesse dato diciamo avesse fatto con te una brutta figura perché prima diciamo si è accreditato nella tua fiducia dopodiché è stata proprio questa persona che ti ha dato ufficialmente come dire con notizia e quindi è la comunicazione diciamo ecco l'asse sulla quale si giocano i problemi di questo rapporto no di non ricambiare i tuoi sentimenti di non essere all'altezza del nel tuo affetto del tuo amore della tua lealtà ma tutto l'asse di tutti quelli che possono essere i tuoi valori allora vediamo cosa abbiamo qui qui abbiamo la carta dell'amica intanto questa è una carta che dice un aspetto molto importante è una persona probabilmente nei confronti della quale tu sei stata buona nel senso che tu hai cercato di avere con questa persona un rapporto armonioso probabilmente prima eravate anche amici o comunque c'era una situazione non tanto che è partita dal sentimento dal sentimento senti cioè amoroso o passionale magari lo è diventato però principalmente al di là della passione consumato oppure no sicuramente diciamo ecco vi legava una profonda amicizia o perlomeno un sentimento veramente di amicizia anche se magari era nemmeno mai tanto coltivato no un affetto sincero una disponibilità sai tu lo sai puoi contare sempre su di me e anche tu lo sai io per te ci sono e poi magari ecco quando iniziata sei iniziata questa storia tra di voi sicuramente questa persona forse ha dato un po delle cose per scontate se si può dire così sicuramente tu hai aiutato questa persona hai ascoltato questa persona magari questa persona aveva bisogno di ascolto no e anche aveva bisogno probabilmente del tuo sostegno della tua complicità di avere bisogno in questo senso ecco dei tuoi consigli ecco questi aspetti diciamo sono andate sono andate un po oltre perché quando tu ti devi prendere del partner cura che lo devi aggiustare praticamente viene meno la relazione di coppia appunto diventa amicizia diventa veramente amicizia questa è una persona come dire che ti ha dato la possibilità di entrare nell'intimità della sua casa e quindi tu magari sai non dico tutto ma sai sicuramente delle cose molto importanti e molto intime e questa però un po questa persona un po paura come dire ecco a proposito di informazioni no a proposito di messaggi con l'ufficialità che tu un giorno o l'altro possa anche strumentalizzare queste cose che sai su di lui ok quindi com'è questa persona nei tuoi confronti diciamo che è un po' sul chi va là per un certo verso magari ecco aspetta è al barco che ti aspetta al barco ma non con delle cattive intenzioni ma neanche le ottime diciamo quelle che servono all'occorrenza ovviamente evidentemente è come questo gatto che sta davanti alla dispensa giusto se chi se la dispensa è la tua e quindi stiamo parlando di te ti dimentichi un attimino una portici cioè una una fessurina così puoi star certo che il gatto con la zampina fa in questo modo e la apre diciamo ecco apre l'antina e ovviamente se c'è qualcosa che gli può interessare ti può depredare in questo senso ecco tutta la tua dispensa no se non c'è niente che gli interessa niente resta l'antina aperta e finisce così quindi questa persona è sul chi va là perché evidentemente sta cercando di capire cosa c'è dentro la tua dispensa va bene allora vediamo un po' cosa prova questa persona qual è il suo stato emotivo nei tuoi confronti lo stato emotivo di questa persona nei tuoi confronti allora abbiamo qui l'artista mazza il bambino oh e anche l'allegria e anche come dire il gran signore quindi direi che non è ostile questa persona nei tuoi confronti lo stato emotivo nei tuoi confronti è certamente ecco positivo sicuramente positivo vediamo di dettagliare cosa dice questo gran signore si torna ancora la carta del messaggero quindi certamente da parte tua non sono arrivate come dire ecco denunce non sono arrivate che so delle umiliazioni pubbliche oppure un biasimo come dire ecco che dice shame cioè da suscitare la vergogna e l'imbarazzo di questa persona diciamo che a prescindere da quello che è successo tra voi due comunque questa persona vede che tu ti sei comportata bene per cui anche lui nei tuoi confronti tutto sommato ritiene di doversi comportare bene ad oggi non ti sto dicendo magari prima non si è comportato bene allora la carta dell'artista è una carta che dice che questa persona nei tuoi confronti vedi è l'amato l'artista è proprio l'amato questa persona sa che tu l'hai voluto bene sa che diciamo ecco tu hai speso per questa persona una certa sensibilità e questa persona non ti viene a dire apertamente quello che è il il suo affetto per te però sicuramente l'affetto ti posso assicurare che ce l'ha infatti qua abbiamo la carta della riunione posso dirti che questa persona come dire ecco non dico che sente la tua mancanza ma certamente magari ecco vollebbe stare con te quello sicuramente perché la riunione di questo parla di stare insieme non tanto del fatto che sente la tua mancanza però lo stato emotivo nei tuoi confronti scusate aspetto ogni tanto che passano queste ambulanze lo stato emotivo di questa persona sicuramente è di chi sicuramente ti vuole bene ti ritiene una partner con cui si può diciamo ecco stare bene con cui si può stare bene sì una persona molto responsabile una persona con un grandissimo senso del dovere ha un'ottima visione di te questa persona gli dispiace gli dispiace molto per come sono andate le cose perché in un certo senso da parte sua ritiene che sia finita non perché dice che lui è finita cioè questo è uno come dire ecco che alla moglie gli hanno dato tre mesi di vita e dice io che ci posso fare se era per me stavamo ancora assieme gli hanno dato tre mesi di vita tre mesi sono passati questa è morta cioè nel senso che in un certo senso è scoraggiata questa persona scoraggiata ma anche accettato questa fine anche se vorrebbe o desidererebbe come dire ecco altro allora guarda il suo stato emotivo abbiamo il bambino è come se lui volesse essere capito allo stesso tempo scoccolato allo stesso tempo diciamo ecco educato cresciuto a questo rapporto diciamo che il bambino fa anche delle cose un po' avventate immature potrebbe significare che questa persona emotivamente ha un'emotività diciamo ecco non matura ok soprattutto nella comunicazione diciamo ecco è molto impulsiva molto leggera quando i bambini non sono contenti cosa fanno sbattono i piedi piangono quando vogliono qualcosa si portano la testa per chi per come per quando ti tirano la giacchetta insomma cercano di attirare l'attenzione ecco questa persona lo stato emotivo nei tuoi confronti è di chi vuole attirare l'attenzione però allo stesso tempo non si espone per esempio tu gli interessi tu gli piaci l'abbiamo capito prova delle cose per te è ben disposta nei tuoi confronti è una buona opinione di te però questa persona non viene a dirti e ti manda il messaggio e ti dice oppure ti cioè non sta facendo niente questo qua questo non sta facendo niente è lì che aspetta aspetta che ci sia quell'occasione per potersi mettere d'accordo se ci si può mettere d'accordo attenzione non è una persona che vuole negoziare e vuole in questo momento la sua immaturità no? consiste in questo che non vuole negoziare e trovarsi a metà strada per la serie io ho queste merci tu passi con la nave sai che c'è è inutile che faccio passare dell'altro tempo guarda ci guadagno 100 euro in meno ma prenditele così io mi godo già il mio guadagno a costo di perderci qualcosina no? questa persona sconti non ne fa è questa l'immaturità che ha questa persona cioè alza la posta magari ha come dire ecco sti pacchi con merce scaduta eppure la vuole vendere a prezzo pieno non è una persona con la quale ci si riesce a mettere d'accordo questa è principalmente la lacuna più grossa più grande più incolmabile rispetto a quella che è la sua immaturità emotiva nei tuoi confronti è così magari con altre persone non lo è sicuramente non lo sto chiedendo non so fino a che punto è così importante però con te sicuramente è matura questa persona emotivamente parlando abbiamo qui la carta dell'allegria però tieni conto che questa persona con te starebbe bene è stata bene gli piace stare insieme a te con te si diverte ti ritiene persona di ottima compagnia diciamo ecco se c'è da fare qualche cavolata come quando hai presente tutte le come posso dirti cioè quando ci sono quelle riunioni no che si esce tutte donne o si esce tutti uomini è chiaro è chiaro che si tende a estremizzare un po' la serata per un verso o per un altro penso che ci siamo capiti ecco diciamo che questa persona con te non ha queste limitazioni quando è con te per lui è come se fosse con gli amici è come se fosse a fare baldoria con tutti i suoi compagnoni abbiamo qui anche la carta della costanza che ci specifica fondamentalmente che c'è un aspetto emotivo legato al fatto che contesta bene questa persona ma emotivamente si rende conto che per dare più solidità dovrebbe anche liberarsi però tutto sommato anche di certe compagnie o anche di certi modi di vivere il rapporto con te perché a volte diciamo forse questo è un po' troppo free ma te non si dovrebbe anche tenere allora vediamo come ti percepisce amica quindi ancora mi arrivano delle buone vibrazioni da parte tua solo che attenzione ci sono come dire ecco delle conseguenze legge causa effetto chi la fa l'aspetti se mi presto un piede aspettati che ti presto un piede è un po' questo è il punto vedi la carta della fedeltà significa che lui ti percepisce con una sana apertura mentale cioè ti percepisce come una persona che cuore e mente diciamo ecco vanno insieme ti percepisce come una persona libera che lascia gli altri liberi però ovviamente con senso di responsabilità diciamo senza fare diciamo ecco stronzate passatemi il termine no vediamo un po' qualche chiarimento rispetto a questa carta dell'amica sì sì sempre emerge questo aspetto che comunque ecco tu sei una persona molto responsabile e affidabile dal suo punto di vista a volte talmente tanto che viene meno magari forse l'aspetto della passionalità no sì sì ti ritiene una persona talmente affidabile talmente aperta mentalmente che tutto sommato è anche una fortuna per lo averti incontrato cioè altre persone non avrebbero dei pregiudizi al posto tuo allora vediamo cosa è successo vediamo qui cosa è successo ok se devo chiederti attenzioni ti lascio alle tue distrazioni quindi qua ci sono state delle mancanze delle trascuratezze cose che si devono fare in un rapporto e che evidentemente non ci sono state diciamo se c'hai così tanto da fare vatti a fare le tue cose viva Maria ecco che emerge spesso questa questa carta che si vedeva prima tempo di riflessione pausa ok c'è una pausa tra voi due qua sono troppe le carte ne prendiamo una dai karma eventi ripetitivi e ciclici probabilmente certe cose sono state fatte anche più di una volta quindi ci sono state più pause più riflessioni distrazioni e quindi ancora una volta presumibilmente delle mancanze amicizia festa si diciamo a questa persona gli piace restare con gli amici evidentemente mi vengono in mente quelle persone che hanno la moglie a casa e poi loro la sera escono con gli amici escono con gli amici non è che escono che dice aspetta che ci imbellettiamo noi usciamo no diciamo che vanno al bar si passano la serata ok è come se la 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 loro si fanno la loro vita sociale e ancora una volta qua ci sono cose legate a dei messaggi delle informazioni che sono state dette probabilmente per via di messaggi che evidentemente hanno hanno fatto danno hanno fatto danno non ci sono qui tradimenti di altre persone qua le carte questo lo dicono molto chiaramente però attenzione c'è questa gelosia invidia preoccupazione stress di coppie disperazione come mai come mai ok può essere che ci avete avuto una litigata il contendere poteva essere torniamo assieme non torniamo assieme dai riprendiamo il rapporto facciamo finta che non è successo niente ora magari siccome questo come ti dicevo prima probabilmente spesso ripete che appena è sicuro che tu ci sei nella sua vita perché evidentemente ha ste distrazioni è probabile che tu gli abbia detto guarda viviti le tue distrazioni se il tempo per me non ne hai io ti devo aspettare dopo che ti sei fatti i fatti tuoi mi viene a cercare guarda fateli sempre i fatti tuoi non c'è nessun problema ecco questa apertura mentale ecco effettivamente queste cose venivano vissute come un momento in cui all'inizio questa persona aveva bisogno di sganciarsi dal rapporto magari di prendersi una pausa di riflettere di scappare lo vogliamo anche dire sì probabile anche sì però quando è il 90% diciamo direi anche no giustamente va bene non sono cose gravissime però sono cose che ti fanno dubitare che l'altra persona sia presa da te ti fanno dubitare che veramente c'è del sentimento perché sta persona si comporta così vediamo qual è il motivo è una persona che ha un po' paura dell'intimità anche se delle cose te le ha dette te le ha dette in maniera facendole passare come se erano così e poi anche per orgoglio principalmente per orgoglio il problema è quello lì vediamo qual è l'ostacolo allora al momento l'ostacolo qua con la carta del pensiero è farsi venire come si suol dire una buona idea forse dovrei chiudere la porta perché mi sa che si sente qui tutto il rumore del traffico scusatemi un attimo dicevo questa persona ci sta pensando lo sta anzi probabilmente anche da mo che ci pensa e il problema qual è che il problema signori miei è che ci sta pensando talmente tanto che ha paura di agire o perlomeno non ha ancora raggiunto come dire ecco la fine cioè cosa intendo dire per la fine cioè che ha trovato una soluzione vorrebbe superare come dire ecco delle difficoltà ora dobbiamo capire se queste difficoltà questa persona ce le ha semplicemente per tornare da te oppure se ci sono dei vincoli al di là del tornare da te diciamo ecco per cui magari deve risolvere delle altre cose delle difficoltà per prendersi degli impegni ecco con te e quindi probabilmente questa persona non poteva prendersi chissà quali impegni del millesimo livello e mi viene da dire che mascherava questa cosa con questo atteggiamento un po' incostante vediamo quali problemi deve risolvere questa persona dai ok intanto qua abbiamo sta gelosia questa è una carta un po' pesantina perché parla anche di dipendenze ci sono evidentemente delle dipendenze possono essere di diverso tipo prendete su google scrivete dipendenze vedete di che cosa si può trattare guarda lo faccio io per voi dipendenze allora ovviamente stiamo parlando di di dipendenze patologiche come qualcosa che ecco guarda c'è le dipendenze tossicodipendenza alcolismo ludopatia dipendenza da internet dipendenze da cibo c'è anche la onio mania c'è lo shopping compulsivo anche il lavoro workaholism cioè la dipendenza dal lavoro la dipendenza dal sesso la dipendenza affettiva ok quindi ci sarebbero da risolvere determinati problemi può essere anche un mix può essere anche un mix perché perché questa è una carta che dice che questa persona dovrebbe risolvere queste dipendenze perché rappresentano un fattore autosabotante per se stesso per la relazione diciamo ecco di parte come dire con una sorta di scimmia per cui poi si va a rifugiare in quelle dipendenze quindi anche andando a cercare come dire con l'occasione per poi rifugiarsi in quelle dipendenze per arrabbiarsi per portare quel rancore per dire ok quindi io per calmarmi ho bisogno di comprarmi e fare debiti per dire no cioè quindi in questo senso lo shopping compulsivo oppure ripeto potrebbe essere l'alcolismo potrebbe essere anche una di queste situazioni di cui abbiamo parlato perché ovviamente quando parliamo di una carta di questo tenore che potrebbe corrispondere all'arcano maggiore del diavolo nei tarocchi considerate che sono cose molto pesanti non è una bazzecola non è uno che si arrabbia così pur arrabbiarsi no va bene quindi questa persona le mosse non le ha fatte anche per questo motivo perché ha questo vincolo ha questo vincolo qui e lo sa e lo sa quindi dice guarda io con questo vincolo che costruisco non posso costruire in realtà granché e infatti qua addirittura abbiamo la carta della prigione cioè abbiamo fatto amboterno come si suol dire quaterno e cinquina questa è una carta che dice che fondamentalmente il problema è che queste dipendenze portano questa persona a delle confusioni dal punto di vista mentale dal punto di vista logico no quindi quando questa persona va o in astinenza diciamo ecco da shopping oppure diciamo ha un atteggiamento incoerente per arrivare poi a soddisfarsi con quella dipendenza no non è una bella carta questa qui no non è proprio una una bella carta parla di anche se vogliamo inettitudine perché vedete qua c'è uno che come dire è legato al palo cioè non è la prigione come dire che deve scontare una pena è una schiavitù le dipendenze sono una schiavitù quindi questa persona avrebbe bisogno di trovare la libertà lui vede questa differenza tra lui e te la percepisce è qualcosa come dire la tua apertura mentale rispetto anche per esempio a non avere delle dipendenze affettive che significa per esempio va bene ok non va ognuno per conto suo no problem oppure il tuo la tua non possessività ok ha fatto vedere un po' questa persona le differenze tante e tali anche da forse esasperare certe gelosie perché dal suo punto di vista se tu non sei lì diciamo ecco a frantumare fini fini gabasisi dice questo dice non gli interessa niente di me e quindi come dire a me interessa di lei però questa persona come dire magari accetta visto le mie dipendenze perché vedi tu lo sai non sei tu magari non sai fino a che punto ma lo sai quindi questa persona un pochetto te l'ha fatta vedere determinate cose però non sai fino a che punto possono essere distruttive già anche lì dove ci sono state delle cose tra voi due che hanno sabotato il rapporto l'hai anche visto che aveva questi atteggiamenti che poteva stare con gli amici giustamente se sono che fanno la ludopatia stanno tutta la giornata a fare scommesse per dire no allora va bene direi che sono ostacoli molto forti cosa sta facendo questa persona per superare questi ostacoli se sta facendo delle cose per superare questi ostacoli abbiamo qui la carta della costanza è una carta buona questa qui perché diciamo che principalmente è un atteggiamento positivo vorrebbe liberarsi questa persona di queste cose vorrebbe emanciparsi da queste dipendenze quindi qualcosa la sta facendo sappi che qualcosa la sta facendo si vorrebbe totalmente liberarsene vorrebbe dire addio vorrebbe si assolutissimamente vorrebbe ottimo infatti qua abbiamo l'ammalato direi che ha capito e sta riconoscendo di avere un problema se veniva un altro tipo di carta ti potevo dire sicuramente questa persona si è rivolta a una come dire che ha un centro specializzato così di questo tipo probabile che questa persona al momento abbia preso coscienza sicuramente che bisogna fare una virata nella sua vita quello si anche perché ha capito che i problemi dipendono evidentemente da questo allora 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 vediamo un po' che possibilità ci sono in questo rapporto che possibilità ci sono allora qui si ci sono le possibilità questa è la carta dell'amato partendo da un amore per se stessi ovviamente si può amare l'altro ok guarda bisogna anche cambiare punto di vista c'è una visione distorta dell'altro ti spiego è come se quando ci si innamora dell'altro l'altra persona per noi è come uno specchio nel senso che vediamo tutte le cose belle che compensano quelle che vorremmo avere noi se sono basse abbiamo una persona alta se noi avremmo voluto essere biondi c'è sta persona bionda se è una persona culturata e noi ci manca la cultura questa c'è la cultura se noi siamo una persona un po' così rigida quello sicuramente è uno che si butta in maniera imparita nel fare le cose c'è una sorta di compensazione in tutto questo poi quando poi finiscono i cuoricini diciamo diventano un po' fumo questi cuoricini ed è fisiologico ecco di quella persona tutto quello che non siamo mai stati e di cui ci eravamo presi perché era proprio quel diverso da noi diventa anche come dire una sorta di demone da esorcizzare cioè quindi è qualcosa che noi non ci siamo permessi prima dell'altra persona ci ha affascinato e poi vogliamo che quella persona diventi a nostra immagine e somiglianza e quindi ci facciamo un po' dio di noi stessi ecco il punto è questo qui qua abbiamo il binocolo che parla proprio di questo di vedere le cose con una certa prospettiva qui il binocolo è messo al contrario mi pare evidente che qua la prospettiva tutto sommato è sbagliata anche il rispetto a io aspetto che questa persona arrivi da me io aspetto come dire ecco che sia anche l'altro a venire nella mia direzione non è una carta brutta per carità sono altre le carte brutte però è anche una carta che dice che le cose possono cambiare all'improvviso sicuramente ecco tra voi due questa è una possibilità possono anche cambiare in tempi brevi possono arrivare notizie sicuramente le possibilità sono positive ma è necessario un cambiamento di prospettiva o vedere le cose non con diciamo ecco una distorsione che forse è più corretto vedi lo chiamo sempre il binocolo ma anche se fosse il binocolo cannocchiale cioè se tu lo metti al contrario cioè se tu se tu lo metti giusto avvicina perché ti fa vedere le cose lontane più vicine se tu lo metti come dire ecco sotto sopra le cose che sono a x distanza le vedi ancora più distanti quindi è anche questa sorta di specchio riflesso che va cambiato cioè rispetto a vedere più vicino rispetto al più lontano wow allora principalmente guarda due volte principalmente possiamo dire che il cambiamento di punto di vista deve riguardare da parte di entrambi per carità ma intanto adesso sto parlando con te l'idea o il l'idea che ti sei fatta che questa persona magari non prova dei sentimenti per te non è che non prova dei sentimenti per te è che ha altre problematiche quindi avendo delle problematiche legate a delle dipendenze è chiaro che non si può puntare il dito dicendo tu non mi ami quella persona cerca l'amore in quelle dipendenze quindi nel momento in cui tu diventi una sfida o il rapporto con te diventa sfidante è molto più semplice andarsi a rifugiare nelle dipendenze che non raccogliere la sfida e lavorare per la coppia allora vediamo questa persona cosa ha capito cosa ha capito questa persona cosa ha capito cosa deve capire cosa non capisce oh bene uh guardate un po' come sono sincroniche queste carte allora cosa ha capito abbiamo la carta della fortuna questa è una carta molto bella e parla appunto di fortuna è una cosa che ha capito cioè che sei una buona occasione per lui sei una persona valida per lui cioè è una una ha capito che con te la vita gli sorride fortunatamente e anche come dire ecco che lui si meritava tutto sommato la fortuna di averti incontrato cioè non ha niente da ridire a dire la verità su di te ok ha capito che ci sono degli ostacoli sicuramente coduri da superare ma che la svolta nella sua vita potrebbe o sarebbe pronta per realizzarsi considerato te questa cosa l'ha capita allora invece una cosa che deve capire è legata all'omaggio di preziosi questa è una carta legata all'imprudenza alla non totale vigilanza o una omissione questa è una cosa che deve capire deve capire principalmente che deve essere più vigile ora non so se questa vigilanza è legata a te o se questa vigilanza è legata a se stessa cioè doppia carta non so se mi spiego quindi ne rafforza addirittura il significato si guarda deve essere vigilante sulle sue dipendenze sui suoi problemi deve essere vigilante non deve anche se ha la tentazione come dire deve essere capace di resistere si tratta di questo ok vediamo infine che questa persona non capisce qua abbiamo la giovane fanciulla cosa fa qual è l'atteggiamento della giovane fanciulla è di chi sta lì a guardare però con un muretto diciamo con una certa una posizione difensiva per cui per cui questa persona è lì che dice chissà se ci incrociamo con gli sguardi ok quindi non capisce come dire con rispetto a te che rappresenti comunque una tentazione ma insieme anche un'occasione perché è una fortuna se da parte tua c'è altrettanto interesse ok oppure se è riferito allora si è riferito a te perché lui non sa se tu sei ancora arrabbiato con lui magari gliene vorresti dire quattro principalmente non ha capito come dire ecco se si andrebbe di nuovo diciamo a litigare in qualche modo a scontrarsi questa è una carta abbiamo un militare è una carta di guerriglia parliamoci chiaro quindi si non ha capito ecco magari evita finché io vedo che questa persona magari secondo me mi tengo a debita distanza mi tengo a distanza di sicurezza perché probabilmente rischio anche di sbagliare in questo momento ecco se diciamo faccio cadere le mie le mie difese mi mi espongo vado io a cercare a cercare te fondamentalmente stiamo parlando di questo anche perché ripeto in qualche modo questa persona dà per scontato che tra voi è finita è finita finita è finita allora vediamo cosa desidera cosa desidera ok allora intanto desidero un attimino capire di più tu che cosa stai combinando desidererebbe che tra voi due cambiassero intanto gli equilibri che quindi per come stanno le cose adesso tutta sta pappardella potesse finire e ti dico anche che questa persona vorrebbe come dire degli aiuti per potersi riprendere per poter stare bene per per guarire si è reso conto o desidererebbe avere degli aiuti che lo portino veramente a una guarigione totale questo desidera vediamo invece di cosa ha paura ha paura di questo sempre di questa situazione in cui si è messo che lui sta riconoscendo di avere dei problemi che sono appunto queste dipendenze e ha capito che da solo non ce la può fare anche se probabilmente ancora insiste però è in una fase in cui si sta anche rendendo conto che se da solo non ce la fa e non ce l'ha fatta e non ha abbastanza prudenza abbastanza vigilanza e tutte queste cose di fatto ha bisogno di qualcuno da fuori che gli dà quello che a lui manca a volte è probabile che questa persona abbia anche pensato come dire che potessi essere tu la soluzione sai quando la gente dice ah vabbè ma ora che si è sistemato a una famiglia vedrai si metterà la testa a posto vabbè adesso che c'è un figlio si mette la testa a posto ma che ce n'è a due se la metterà sicuramente la testa a posto ah ora che ce n'è a tre figuriamoci se non si mette la testa a posto andrà nella direzione delle sue responsabilità e compagnia cantante ma chi l'ha detto cioè questo vale magari per l'80% ecco delle persone ma quando una persona è diciamo ecco libera da certi vincoli e da certi problemi non è questo il caso perché comunque c'è anche una scala di grigio rispetto a certi problemi no allora vediamo quale pensa sia la tua posizione nei suoi confronti qui abbiamo gran signore no no assolutissimamente lui ha una grandissima stima nei tuoi confronti sa che non sei diciamo ecco un infame sicuramente anzi 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 direi tutto tutto il contrario wow va bene va bene ci spostiamo dai dai dalle Sibille ci spostiamo ai talocchi e andiamo a vedere questa persona come ti pensa ok come ti pensa scusate questa non è una carta infatti abbiamo qui anche una carta in più in questo mazzo l'Eppy Narwhal cioè il delfino tipo unicorno allora vediamo questa persona come ti pensa con felicità con gioia con passione con chiarezza beh ti pensa bene ti pensa come una persona positiva di successo come una persona come dire ecco che illumina la vita come il sole no come la vita cosa sta cambiando sì sì ci sono delle cose che stanno decantando io non so come dire ecco questo è il residuo probabilmente rispetto a qualcosa di più grande più forte che è successo tra di voi evidentemente ci è voluto un po' di tempo per far decantare le cose e vederle in maniera differente qua vedete fa capolino l'asso di coppe perché evidentemente il bene ha vinto sul male di ciò che è successo wow vediamo cosa farà ora questa persona regina di pentacoli ok si sta prendendo cura di sé questa persona da un punto di vista non affettivo dice mi voglio bene no perché uno che si vuole bene che ha delle dipendenze il suo modo di volersi bene è diciamo ecco aggrapparsi a quelle dipendenze no sta come dire ecco migliorando delle cose sicuramente ecco nella sua vita ok anche per avere una maggiore stabilità per essere più diciamo ecco più di sostanza che di panza ma anche anche di panza tutto sommato allora cosa prova e sente per te questa persona abbiamo qua il mondo e abbiamo il 5 di pentacoli gli manchi gli manchi direi come l'aria gli manca tutto di te il mondo è la pienezza la protezione gli manchi gli manchi perché è come se gli mancasse un braccio è come se gli mancasse quel sole quel calore e vedi come se ne va il sole fa freddo gli manchi gli manchi pure tanto allora vediamo cosa farà questa persona per il futuro 4 di coppe allora diciamo che si sbloccherà dal punto di vista emotivo questa persona e questa carta mi venti là che ci sarà un equilibrio tra voi due una riconciliazione un ritorno comunque ecco sì 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 per qualcuno di voi c'è anche la possibilità di ripartire e crearvi una vita sicuramente diciamo come dio comanda in questo caso quindi da parte sua sicuramente sbloccandosi dal punto di vista emotivo c'è tutta la voglia di di avere di nuovo un'occasione con te ma non è tanto un'occasione di sentirsi completo con te non vuole l'occasione questa persona questa persona è come se fosse un qualcuno a cui manca metà del suo cuore conclusioni cosa devi sapere gli erofante perdonalo 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 mettiti nella predisposizione di perdonarlo e smetti di soffrire lì dove veramente ti sei più che altro agganciata alla sofferenza a tutte le cose brutte a questa perdita a quante te ne ha fatte passare invece comincia a pensare anche se vogliamo a manifestare un futuro migliore nella quale tra te e questa persona ovviamente se ti risuona e ti interessa diciamo ecco potrete stringere un legame un patto essere anche rispettosi di quelli che sono i vostri progetti comuni ben sapendo che quelle che sono le crisi possono essere delle occasioni di crescita e a non avere degli atteggiamenti distruttivi ma in qualche modo ecco l'ego deve anche misurarsi con l'amore cos'è che conta di più l'amore o l'ego è proprio questo che ti stanno dicendo le carte abbiamo infine l'arcano maggiore della stella che è una carta di grandi speranze proprio legata alle speranze ai sogni alla bellezza alla pace quindi questo ti dicono le carte devi sapere che in questa situazione c'è l'occasione di divertire l'amore la felicità la serenità diciamo ecco non nel senso di quegli amori dove uno dice wow siamo felici perché questo mese ce ne andiamo a Cuba il prossimo mese ce ne andiamo alle Maurizius il prossimo mese ce ne andiamo non si sa bene dove non è tanto dove andate potete rimanere anche nello stesso punto che non significa che rimarrete sempre nella stessa località ma significa semplicemente che dove siete siete sotto un tavolo sopra il tavolo o sopra il tetto del mondo l'importante è che siete insieme ed è questo che vi fa stare bene e vi rende felici è la pace che si trova nel poter dare il proprio cuore all'altro senza più avere la paura di sentirsi maltrattati questo qui va bene bene io direi che ho finito grazie per avermi ascoltato un bacione grande a tutti quanti aspetto di ricevere o di leggere quelli che sono i vostri commenti a me fa tanto piacere di leggo tutti quanti a chi non dispiace lasciatemi un like se non siete iscritti iscrivetevi e va bene è tutto ci vediamo ecco per un prossimo video ciao 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 ciao